Benvenuti appassionati di corse a una nuova edizione del GT Blitz Show! Cosa ne dici, Packer? È una stagione grandiosa, vero? Sì, GT! È veramente una... Ottimo! Beh, oggi si affrontano due tra i migliori piloti in circolazione. Allora, Razor, dimmi, come ti senti a partecipare a uno dei più importanti eventi al mondo? Il mio show? Beh, come ben sai, sono fermamente convinto che il nostro sport debba evolversi. Ci serve più azione, più emozione, più pericolo. Splendido, splendido! Dimmi, Jack, come ti senti sapendo che entro la fine della stagione uno tra te, Razor, sarà morto? Devi essere veramente motivato per continuare a correre in questa situazione. Beh, moriamo dalla voglia di vincere! Si dice che il misterioso boss Miniso potrebbe essere coinvolto. Il nome di Miniso è stato fatto troppe volte per essere uno che vuole restare nell'ombra. Avete sentito bene, amici? Questi due grandi piloti sono pronti a scontrarsi e noi saremo qui a identificare i loro corpi. Benvenuti a... Bene, andiamo! Bene, andiamo! Chi ho st最近ato, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altra grande mossa! Grazie a tutti. Oh sì, la folla ne chiede ancora! Senti questo? No! Boom, baby! Mi stanno colpendo! Abbiamo vinto!